ecco a voi la mia nuova webcam hd ragazzi pensavate che scherzavo ma voi pensavate che scherzavo guardate com'è bella ragazzi nuova nuova comprata su amazon in due giorni è arrivata ragazzi che spettacolo la voglio mostrare spero che duri che non si rompa la voglio mostrare ragazzi guardate che che bella adesso ancora è in funzione ma questa sera stasera la provo su stream yard guardate che spettacolo in hd la webcam pensavate che scherzavo ah ma pensavate che scherzavo